Le dieci terapie che donoreste Benzi di venerata memoria, ora servo di Dio, ha lasciato per indicare agli educatori come educare i giovani non solo alla vita, ma a una vita bella, non solo all'amore, ma a un amore vero, non solo al Vangelo, ma a un Vangelo che si fa storia, che si fa quotidianità, che si fa veramente compagno di viaggio, che si fa uomo, ecco, perché il Vangelo è vero quando porta la felicità e la felicità del Vangelo è donarsi. Ieri abbiamo visto la terapia della verità, oggi vediamo gli altri punti di questa terapia della felicità che donoreste ha consigliato per aiutare i giovani. L'altra terapia è quella della responsabilità. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo detto il contrario, cioè che bisogna evitare di inculcare e di educare purtroppo, di educare tra virgolette all'irresponsabilità. Il giovane va educato a responsabilità precise, ma sin da piccolo. Cioè se noi per esempio ai bambini non diamo delle regole, non diamo degli impegni, dei piccoli compiti adatti a loro, questi ragazzi quando poi saranno adulti, e ancora prima giovani, non avranno il senso del rispetto delle regole, il senso del rispetto dei propri doveri. Ma quando si educa alle regole, quando si danno degli impegni, bisogna poi verificarli e quindi verificarli con loro, perché loro così vengono stimolati a fare, a combiere ciò che hanno promesso di fare e poi a renderne conto. Perché poi la nostra vita, almeno per noi credenti, è un rendere conto a Dio. Gesù ci ha detto quali saranno, tra virgolette, le domande, tra virgolette, su cui verificherà la nostra responsabilità. E cioè ci dirà, ero ammalato, mi hai visitato, ero carcerato, sei venuto a trovarmi, ero povero, mi hai accolto, mi hai aiutato, avevo fame, mi hai dato da mangiare. Tutte queste cose il Signore chiederà a noi. E a questa responsabilità, dicevo, si deve educare, però tenendo conto poi che c'è un momento di verifica in cui l'altro deve rendere conto di come ha vissuto, se ha compiuto, se ha vissuto o meno la propria responsabilità. E vediamo l'altra terapia, la terapia della conquista e del sacrificio. Vedete, se la responsabilità ci porta a crescere nella autonomia, la terapia della conquista ci porta a crescere nella sobrietà, nel senso del sacrificio. Perché conquistare vuol dire lottare e conquistare, lottare vuol dire anche saper fare delle rinunce, saper fare dei sacrifici per ottenere un obiettivo. Quindi terapia della responsabilità, educando a rendicondarsi, a rendicondare e educandosi all'autonomia, la terapia della conquista educandosi al sacrificio. Ci vediamo domani per continuare questa nostra terapia su Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!